Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovo video quest'oggi siamo qui a Righi ho cambiato bici perché l'altra è rotta, la BMX pure quindi scusatemi per questo motivo che non ho fatto video ma adesso l'abbiamo io e mio papà riaggiustata gli abbiamo gonfiato le gomme, i freni, i marci e così quindi adesso farò un paio di video con questa qua poi aggiusterò la BMX e ritornerò a fare video ragazzi adesso scenderemo un percorso facile ragazzi adesso impennatrone oh no ci viene il problema oh 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 qui anche stavolta è tutto vi ricordo di lasciare tanti miei mi piace come voi sapete fare spolliciate, commentate mi raccomando e condividete questo video quindi se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e ci vediamo alla prossima